Un ospedale mobile per curare i bambini, il primo mai prodotto in Europa, è stato presentato a Roma alla presenza di esponenti del mondo politico e istituzionale. Il progetto realizzato dalla Onlus Happy Family ha come scopo quello di prestare soccorso ai bambini anche in ambienti extra ospedalieri dai volontari pediatri che Happy Family ha reclutato. Il camper è un vero e proprio ospedale mobile che girerà l'Italia con due sale visita e dotato di apparecchiature di telemedicina avanzata.